Colpo di prova con il Roni, che è un accessorio della CIA, una fabbrica israeliana di accessori per le armi da difesa, abbinato a una Glock 17 di 9x21. Come vedete è un giocattolino divertentissimo che simula perfettamente quelle che sono le caratteristiche di una micro mitragliatrice, anche se in azione semi-auto. Alla prossima! Grazie!